Adesso che il tecnico ha completato il lavoro autorizzato, è arrivato il momento che il consulente assistenza imposti il prossimo promemoria di assistenza, prepari, e chiuda la fattura. Gli interventi che sono pronti per la fatturazione, vengono visualizzati qui. Clicca su un intervento per aprirlo, ed esaminare il repilogo dei lavori prenotati, e autorizzati. Clicca sulla scheda cliente, per impostare un promemoria per la prossima assistenza programmata. Quindi, imposta la data, e inserisci i dati per programmare la prossima assistenza. Un promemoria verrà aggiunto automaticamente alla scheda di registro follow-up, per l'assistenza programmata, da utilizzare come riferimento futuro. Ora, puoi stampare il foglio di controllo dell'ispezione da consegnare al cliente, con la fattura finale. Seleziona azioni intervento, quindi, seleziona stampa. Adesso, torna alla schermata interventi di oggi, qui. Il nostro intervento, ha attraversato tutte le sezioni della concessionaria, e il veicolo è in attesa di essere consegnato. Nel momento in cui il cliente preleva il veicolo, e provvede al pagamento del lavoro, il consulente assistenza sposta l'intervento alla fase finale del lavoro in corso, in questo modo. Aumentando la produttività all'interno della concessionaria, il sistema di gestione degli interventi, consente di concentrare l'attenzione sul cliente, in modo da migliorare l'esperienza di assistenza complessiva.